buongiorno ragazze vi avevo detto che ritornavo oggi con un nuovo video creazioni però non voglio cominciare subito con sempre le mie creazioni golose volevo iniziare con delle bamboline che ho fatto ultimamente delle bamboline ho fatto a legge nel paese delle maraviglie per sei lo al momento no tra devo fare tutte il funghettino di super mario la vita la vita se non sbaglio si per amare allora ho finito le creazioni delle bamboline vi faccio vedere quelle golose allora ho realizzato la pizza può stare a mani dalla luce mette a fuoco no panini prosciutto insalata e formaggio gli spaghetti con il piattino e la forchettina la pasta con il pomodoro e il basilico che è un altro tipo di piattino rosa tramezzino per dargli questo colore tipo proprio tipico del tramezzino ho unito il il primo transparent e il fimo bianco e poi ho colorato i bordi con il gessetto per dare il colore della crosta del pane insieme ho fatto gli orecchini ho fatto i tacos ho fatto i tacos scusate ok sempre orecchini in ultimo l'anellino con gli spaghetti al pomodoro e la forchettina con il bassoio l'anellino con il bianco e la forchettina con il tessuto ah si no 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 ho finito un attimo mi faccio vedere questo arriva sì ho fatto le uova e poi questo non è guardo adesso sono altre cose le ho perdonato io ho doc con il gusto e la senape ho fatto sia normale che con l'insalata che non si vede comunque c'è l'insalata e il pomodoro all'interno e ora ho finito l'angara l'ultimo e ho finito ho fatto le le coccinelline con gli occhietti allora ora vi faccio vedere un'altra cosa è arrivato ieri sera con il mio fidanzato mi ha fatto questo regalo inaspettato ve lo volevo far vedere eccolo qua il gazebo nuovo nuovo per i miei mercatini è un 3 metri per 3 ed è panna verde non ve lo apro perché sennò io faccio un qualche guaio a fianco c'è il mio borsone faccio vedere nananana eccolo qua vi lascio con quest'inquadratura tanto abbiamo parlato di cibo fino a due secondi fa chissà qualcuno di voi oggi gli viene qualche strana voglia di mcdonald arrivederci ragazze i lovin' it i lovin' it i lovin' it qui è Grazie.